I recenti fatti non piacevoli dell'Arabia Saudita non dovrebbero avere alcun tipo di impatto sulla nostra operatività. Il numero uno della Siot, Alessio Lilli, precisa la situazione anticipando l'ovvia domanda. Gli attacchi ai pozzi in Arabia Saudita non hanno influito sui traffici dell'oliodotto transalpino. Il terminale Marino, che pompa petrolio da 52 anni, da Trieste sin nel cuore della Baviera, ha aperto eccezionalmente le porte alla stampa internazionale di Italia, Austria e Germania, i tre paesi che la pipeline attraversa per celebrare il recente approdo in banchina della petroliera numero 20.000, la Rava, raffigurata anche in uno speciale poster e contemporaneamente i 300 anni di vita del porto franco di Trieste. Siamo una grande realtà molto importante per l'economia del territorio di Trieste, del Fiori Venezia Giulia e siamo consci del ruolo che svolgiamo. Quindi i dati sviluppati dal terminal, il più grande nel Mediterraneo, dotato di due pontili e quattro ormeggi che ospitano 500 navi l'anno, garantendo il 100% del petrolio utilizzato nel sud della Germania e il 90% di quello austriaco. I 32 serbatoi presenti a Sandor Ligo ospitano una quantità di greggio sufficiente a coprire il fabbisogno italiano per 10 giorni. Dunque i dati sui traffici recenti e di prospettiva. Partiamo dal regalo che ci hanno fatto i nostri clienti, i nostri shippers, nel cinquantesimo anno di esistenza e di operazioni del gruppo Tal, quando ci hanno permesso di raggiungere il record di 42.400.000 tonnellate. Questo succedeva due anni fa nel 2017. L'anno scorso siamo scesi poco, 41.700.000 tonnellate ed è il valore che ci aspettiamo di raggiungere anche quest'anno. Quindi finora nei primi nove mesi dell'anno il trasportato e il ricevuto è assolutamente in linea con le pianificazioni. A fine anno andremo a vedere il bilancio che sarà molto probabilmente compreso tra 41 milioni e 42 milioni.